I campioni che abbiamo fatto hanno rilevato una presenza di 10 volte superiore al tenore accettabile in caso di incidente nucleare, cioè la soglia oltre al quale non si può andare per mangiare un alimento radiocontaminato, ecco in questi cinghiali era 10 volte tanto. È possibile che sia ancora una conseguenza dei fatti di Chernobyl, ma stiamo parlando del 1986? Guardi, questa è la possibilità più plausibile, perché anche altri paesi che hanno fatto indagini simili in Germania hanno trovato questi tenori di cesio nei cinghiali e hanno sempre scritto la radiocontaminazione ancora all'incidente di Chernobyl, perché è quello che è noto, per cui è fuoriuscito il cesio 137 e ha contaminato tutta l'Europa. Visto che vive molti anni il cesio, una trentina d'anni, ha un'emivita di 30 anni, l'ipotesi più plausibile che sia legata a Chernobyl. Se ci cibiamo di alimenti che provengono da una presunta zona in cui ci sia il cesio 137, si è entrato nella nostra catena alimentare? L'ipotesi c'è ovviamente, perché se ci si è cibati di quei cinghiali non bisogna allarmarsi, perché chiaramente i danni che fanno i radiocontaminanti sono legati a un'alimentazione continua, ripetuta nel tempo, quindi una somministrazione ripetuta, una casuale assunzione di un cinghiale fosse anche stato contaminato, non rappresenta un rischio importante per la salute.